Quello che sta facendo la Giunta è un passaggio politico molto difficile da capire che va ad interrompere l'integrazione tra pubblico e privato. Così i dirigenti di Copseglios e Aurora Domus hanno commentato la decisione del Comune di Piacenza di non concedere alla loro cordata l'accreditamento definitivo per la gestione di 108 posti letto per anziani non autosufficienti all'ospizio Vittorio Emanuele. Questi 108 posti dal 1 di giugno torneranno nelle mani della gestione pubblica dell'ASP Città di Piacenza che già ne gestisce altrettanti nella struttura. Motivazioni economiche quelle espresse da Palazzo Mercanti, secondo il sindaco Paolo Dosi con tutti i 216 posti anziani in mano all'ASP si risparmieranno 300.000 euro all'anno ma le cooperative non sono d'accordo e sono pronte a valutare un'azione legale. Non riusciamo a capire le motivazioni reali di questa scelta e sicuramente come per tutti i contratti di servizio che abbiamo in sette regioni d'Italia con moltissime amministrazioni pubbliche andremo avanti nel difendere i nostri diritti, i nostri diritti di cooperativa sociale che ha firmato regolarmente un contratto di servizio e che oggi ci viene detto sempre attraverso la stampa che questo contratto non sarà rinnovato. Ci sono delle possibili ricadute pesanti anche sui lavoratori? Noi crediamo di sì perché nel momento in cui i lavoratori che attualmente sono assunti lo sono con noi a tempo indeterminato dovessero passare di nuovo sotto il pubblico gioco forza per l'amministrazione locale quella di aprire un concorso pubblico che aprire un concorso pubblico significherebbe aprire tutta la pletora di persone che potenzialmente verrebbero da tutta Italia giustamente a lottare per un posto di lavoro. Grazie. 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 Grazie.